Ciao a tutti a Bella Roma, io sono Anna, la regista di questo cortometraggio Bill Murray Lost in Berlinale. Grazie mille a Indie Cinema per il premio Talent per la creatività e la originalità. E voglio dire che Bill Murray è una persona magica come la Roma è una città magica e tutto è possibile. È possibile che io e Bill Murray e voi siamo insieme questa sera nella questa città magica e forse dopo questo screening sarebbe possibile di vedere Bill Murray come mangia un gelato vicino a Fontana di Trevi. È una persona molto interessante, è una persona molto, come si dice, improvvisante e penso che è una persona fantastica. È stata mia ispirazione per fare questo film e spero che questo film piace a voi. E voglio dire, nel bocca del lupo, crepi lupo, ciao!